buongiorno ragazzi e benvenuti in un altro vlog e come al solito pezzi di video in macchina allora ho cominciato un po' tardi il vlog perchè questa mattina ho avuto un pochino di cose da fare a casa e quindi insomma mi era più complicato girare anche perchè non abito da sola quindi mi vergogno di andare un po' in giro per casa con i miei che mi guardano che parlo con la videocamera però oggi è una giornata vabbè è un sabato sabato 5 5 dicembre allora sto andando dall'SMB profumeria perchè voglio vedere la collezione nabla ma penso che la guardo e basta nel senso che sto in fase di risparmio e controllo se c'è gente che mi guarda mentre vloggo e niente e poi andiamo a pranzo con Ale Eleonora insomma e penso che faremo un pranzo salutare tipo dal McDonald's e dal Burger King e si come vedete siamo ragazze molto molto healthy e niente quindi mi fa piacere portarvi con me perchè so che a molte piace comunque che faccio vlog quindi lo faccio volentieri e poi non so questa sera che cosa farò quindi passerò insomma al pomeriggio con loro forse andiamo a fare un giro al centro commerciale e niente di di eclatante insomma e poi stasera mi vedrò con il mio ragazzo e vi farò vedere che facciamo ma proprio perchè sono una vlogger seria una youtuber seria io ho la macchinetta tipo scarica quindi non so quanto di opera questo vlog la sentiamo in mio profumeria ho acceso la videocamera yeah fragolotta yeah stiamo andando a comprare una crocchetta fragolotta fragolotta la prendi la crocchetta tu? no io non sono una cicciola vabbè tu Giorgio la prendi la crocchetta? no vabbè prendevamo anche solo io sta crocchetta mi stava volando le gambe la fragolotta mi uccide Emanuele è enorme ragazzi è enorme ciao Ele ciao Ele Ele devi salutare i miei followers ciao followers aspetta adesso vi facciamo vedere come ci facciamo non sta riprendendo nulla però vabbè fragolotta guarda che cosa hai preso guarda che cosa hai preso guarda io che cosa ho preso bestia c'è ma purella sono male il pancino mangerei una minestrina mentre non ci sfonderemo al mac fragolotta dovevo fare bella figura in pizzeria caschini ah Ele sai che la pizzeria qui c'è un gran figlio però non l'abbiamo potuto riprendere non posso annuire sono ripresa ragazzi parliamo questo è Cosmic Dancer di Nabla io ho seriamente problemi guardate che bella parliamo in diretto a Cosmic Dancer cosa sta cagando bella è figo no figa io poi mi piace il mio rossetto dove è piaciuto questo a me non mi piace faccio la vi riconosco è una vip è una vip ma ecco io faccio stai in diretta ah non si dice ho detto mannaggia gli pescetti no non mi piace questo è più bello l'altro non mi piace stai Eleonora Manni che sfoge la collezione Nabla tanto è un po' il video nel video il vlog nel vlog non si vede è la controluce follower di Martina ditemi come mi stavo e la ce l'ho messo sotto una cosa il rossetto ma è lo stesso mio? no è quello là che non ti piace è bello vero? però è più bello il mio adesso c'era il momento sputanamento perché mi hanno preso la presa per il culo quindi si oh 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 sono arrabbiata mi è da rire perché non hai capito che hanno detto no sono tipo una cosa del male mi hanno detto mi fai venire i brividi del male satanente lei prima l'ha toccata tu mi sono pieno di brividi ho detto hai i brividi del male sai quando dicono che passa si 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 è cantante l'ha toccata perché ma mette tag l'erba si mi sono trattenuta ho preso un menù diciamo piccolino con il crispy chicken che è buonissimo e la salsa barbecue a chi piace la salsa barbecue arrivate io non so neanche penso se cade sotto penso a Emanuele questo è il nostro ragazze oh foto comprometente io faccio il mio vlog il vlog nel vlog il vlog nel vlog guardate che cosa mangia guardate che cosa mangia mi hanno costretto hanno detto che è una poraccia con il salato a barsa no di solito no è la prima volta ti riprendo la pimenta poi cosa? martino è molto pesce che vlog è seria eh ragazzi sono comunque c'è il pollo sono la Burger King ragazzi ok ragazzi allora sono arrivata a casa del mio ragazzo e grande notizia la suocera fa la pizza quindi a pranzo Burger la cena pizza domani passato di verdure e quindi niente magari dopo se riesco mi faccio vedere la bontà ok ragazzi buongiorno questa è la mattina dopo perché ieri siamo rientrati abbastanza tardi siamo stati semplicemente a casa di un'amica così per insomma tutti insieme con altri amici per passare una serata così tranquilla e niente spero che il video vi abbia tenuto compagnia fatemi sempre sapere se vi piace insomma che io giri dei vlog perché in diverse mi dite che vi piace però io noto che magari le visualizzazioni non sono tante quindi fatemi avere un riscontro vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.